Allora, cominciamo questa sera a pullare dal banner, diciamo, quello All Stars, che è cambiato perché la settimana è cambiata. Quindi ora, fino al 4 di agosto, avremo personaggi di Final Fantasy 2, 4, 8, 9, 12, 14 e Final Fantasy Origins. Infatti c'è Jack Garland, lì, bello come il sole, che tra l'altro prenderà anche la Echo e prenderà tutto. Prenderà rework, prenderà tutto questo mese, quindi non vedo l'ora di vedere come lo romperanno definitivamente, perché Jack Garland è già mostruoso di suo. È letteralmente già mostruoso. Diventerà ancora più mostruoso. Che è proprio senza problemi. Allora, nel caso, dopo, a fine serata, ci rifacciamo con Kitesit anche l'evento del Memorial Stage. Così lo rifacciamo, giusto per avere un po' di brido la sera. Anche se in realtà questa sera avrei voluto fare un'altra cosa, sinceramente. Avrei voluto fare un'altra cosa, perché ho un langurino che sono riuscito a soddisfare, quindi l'avrei voluto provare in live. Allora, intanto vediamo da Enna che scasce. Oddio, ho visto un... Ho visto un connecting strano, però vabbè, vediamo. Non riesco a fare la Six Warrior di Quistis con tutto che ha la sua FL. Anzi, la Six dovrebbe essere più semplice, perché basta che te la porti... Te la porti dietro come peso morto. La utilizzi solo per il delay quando si mettono le aure e poi vai liscia come l'olio. Oh! Scaccia! Oh! Oh! Perché comunque abbiamo... Scaccia! Oh! Oh, oh, oh! Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Qua si gode. Qua si gode. Qua si gode, però. La prima arma di Amaranth, la FR, attenzione. Qua si godicchia. Aspetta, ma sono passate le 9, quindi dovevo avere il free ticket. Cioè, mi deve ricaricare praticamente la giornata. Ecco. Ok. Ok. Possiamo andare. Allora, free ticket. Pensavo a una magia del free ticket. Va bene. Va bene. Allora. 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 LD, ottima. Vabbè. Doppio LD un po' esagerato forse, però. Va bene. È comunque buono. Doppio LD già va bene. Guarda, se mi dai la BT abbiamo praticamente finito. Perché poi l'ex la posso prendere con i token. Le altre armi le possiamo tentare anche con i ticket, sinceramente. Sti cazzi. Cioè, non è un grosso problema, quindi. Quindi va bene, ma non è un grosso problema. Il Rogue Legacy 2 che sta sul plus. Ma si deve sparare? Perché se si spara, io su console, sinceramente... Oh. Bene. Bene. Si gode. Si gode. Si gode. Abbiamo anche la 35. Si godicchia. Mannaggia, ho visto un piccolo lag. True Grum. Grazie. Bentornato. Ah, ok. Non si spara. Perfetto. Amaranto oppi. Se lo pullerai, non te ne pentirai. Ma non c'è né più forte di Gaio Popopop. Ovviamente. Bene. Anche la ex. Ok. Va benissimo. Cioè, ho trovato praticamente tutto il kit. Cioè, mi mancherebbe solo la BT, praticamente. E BT tokens io però non ne ho. Perché le ho spesi su... Su Sisney. Sì. Infatti non ne ho BT tokens. Ah, questi sono i BT... I BT token, quelli che si possono shoppare. Va bene. Ok. Non ho BT tokens. Doppioni BT non ne ho. Tentiamo la follia con questi 70 ticket. La tento la follia. La provo, me ne frega niente. Tanto i ticket. Oddio. Ho visto 60 connecting però. Aspetta. Aspetta. Aspetta che me lo segno allora questo qua, se è sul plus. E poi tra l'altro credo di averlo anche sentito nominato. Oh. Ah, affanculo. Scusa, mi fai il connecting mega laggoso per la FR di Enna Cross che ce l'ho maxata. Ma l'affanculo. Cioè, veramente, ma è una cosa incredibile. E ce l'ho Enna Cross. Ce l'ho anche maxata. Mi fai il laggone per... 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 Per Enna... Per... Per scacciao. Ma che cazzo fai? Ho detto a scaricare subito stasera. Appena stacco scarico subito. Proprio un instant. Zello totalmente random. Va bene. Cioè, consideriamo che c'è anche la summon a fine mese. Cioè, io ticket qui ora li devo buttare per forza. Molti li butterò sicuramente da Artemisia. Perché comunque Artemisia... Ok, direi che l'Artemisia non c'ho manco la BT. Per cui non mi converrebbe neanche pullare Artemisia. Non ce l'ho manco la BT. Potrei trovarla, però, eh? Attenzione. C'è la free pull. Potrei... Ma perché non l'ho skippata l'animazione qua? Skip BT. No. Skip BT... No. No, qua è dorata, quindi ce la guardiamo. È forte Amaranth. Oddio, non è un secondo me... È un personaggio molto particolare in realtà. È molto forte da solo. Solo che ha il problema di non avere riduzione. Cioè, ci sono tanti piccoli difetti, secondo me, nel suo kit in totale. Ci sono... Ci sono diversi difetti che lo costituiscono. Avanti, buttiamone un altro paio, tanto qua... Oddio! Oddio! Ho detto buttiamone un altro paio! Ho detto buttiamone un altro paio! Non ci speravo! Ho detto buttiamone un altro paio, totalmente a caso! Oddio! Oddio! Oh, donna mia! Cioè, con KiteZit non succedono queste cose. Non mi è successo con KiteZit, e mi è successo con Amaranth, incredibile. Eh sì, a sto punto me lo maxo. Eh, ormai che ce l'ho me lo maxo. Eh sì, ragazzi, a sto punto me lo fo, me lo fo verde, me lo fo verde. Me lo devo fare verde, per forza. Quindi sì, ragazzi, panna del 9, questo è per voi.